Ehi, dovete aiutarmi. Purtroppo Godzilla sta distruggendo il nostro... la nostra città. Ora guardate. Avete visto? Ci sta distruggendo completamente. Qui ci servo un eroe. Un eroe che sia adatto a lui. Vai! E ci resta solo lui come ultima speranza. Perciò adesso facciamo il nostro lavoro. Ehi, va! Psst! 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 Ehi! Ehi, oooh! Ehi, oooh! Ehi, oooh! Ehi! Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo distrutto Godzilla! E adesso mettete un like se vi piace il video. Ciao!